questo programma è presentato da supermercati doc e famila superstore buongiorno a tutti e buon lunedì ciao Silvia buongiorno ciao Titti ciao Fedes allora benvenuti al Ciardatano e benvenuti nella zona rossa di Bari perché da oggi come ben sapete siamo entrati nella zona rossa quindi siamo tornati nella zona rossa perché comunque i danni che stanno in giro su Assane e quindi mi sembra opportuno rinchiudersi un'altra volta stai chiuso in casa però c'è da dire che noi stiamo qui apposta per farvi compagnia quindi a tutti quelli che magari staranno chiusi purtroppo in casa ci siamo noi quindi passeremo questa oretta da lunedì a venerdì tutto lo staff di Telebari perché le produzioni tutto continua noi vi siamo vicini e continueremo ad informarvi a fare il nostro a fare il nostro quindi a farvi compagnia diciamo e non a caso abbiamo scelto un tema oggi sempre per il discorso di tenervi compagnia per giocare nel perfetto stile del Ciardatano e pensate un po' oggi parleremo, indovinate, di serie tv più longeve infatti siccome il periodo della zona rossa durerà un po' abbiamo pensato di giocare un po' con voi su questo quando insomma non state guardando Telebari cosa che io mi auguro facciate sempre ogni tanto per distrarvi potete anche seguire una serie una serie televisiva sì tanto voglio dire abbiamo tutto abbiamo la RAI, abbiamo Mediaset della 7, Sky, abbiamo Netflix e abbiamo soprattutto Telebari e Radiobari allora per parlare con noi potete chiamare il numero 080 501 46 68 oppure mandarci dei messaggi vocali al numero 370 301 5353 vai con le telefonate abbiamo una telefonata? no, va bene ora sblocchiamo allora la domanda per gli amici a casa quali serie tv più longeve della storia ricordate? quali avete mollato perché stanchi o delusi? cioè tipo uno dei protagonisti l'hanno ucciso nella serie tv e voi l'avete ritenuta una vera cattiveria e quindi basta non la vedo più infatti tipo noi quando abbiamo cominciato a vedere Walking Dead ecco a noi è successo che poi hanno ucciso tutti quanti no, noi hanno ucciso il figlio di Rick oh scusate ho fatto lo spoiler va beh molti l'hanno visto, molti no parecchi anni comunque ciao Renato un abbraccio dal Gargano a Mocca la Razza va bene Michele Biscelli un posto al sole ci scrivono ci scrive Chiara vedi un posto al sole un posto al sole è un'altra serie di tv che io personalmente non ho mai visto quale? è un posto al sole un posto al sole un posto al sole e neanch'io l'ho seguita mai non è il caso di oggi perché oggi abbiamo cominciato questa bella giornata col sole poi da un minuto all'altro la pioggia, la grande, il new wind la roba bagnata che si era asciugata fino a ieri sera vabbè comunque allora io direi che possiamo iniziare a parlare di quelle proprio longeve anche antiche no direi Gunsmoke che è una serie tv che è andata in onda Renato nel 1955 20 stagioni dal 1955 al 75 ecco la sigla non avevano di cose a raccontare sì sì dal 1955 al 1975 sì esatto aggiungo che ci sono stati anche una serie di spin off di spin off che non sono quelli spin che si mettono in là ha preso la corrente è una serie storica le vicende si svolgono nel 1873 e Gunsmoke nonostante il grande successo negli Stati Uniti pensate non è mai andata in onda in Italia per cui se la dovete cercare la dovete cercare ai streaming infatti sì sì abbiamo un messaggio abbiamo un messaggio spero sia inerente spero anch'io vai ciao Silvia ciao Renato sono Francesco da Andrea beh io essendo un fan di Bianca Guaccero voglio ricordare la serie tv Capri le tre stagioni Capri tutto molto bello serie bellissima musiche di Peppino di Capri posti bellissimi dove è stata girata peccato che si sia fermata la terza serie perché si poteva continuare tranquillamente e vabbè magari scrivi una lettera di perché non continuate Capri di Silvia che stai dicendo allora prima ci hanno menzionato effettivamente Un Posto al Sole che è iniziata nel 1996 quindi eccola ambientata nella splendida Napoli in onda dal 1996 e sembra che non abbia proprio l'intenzione di fermarsi quindi state tranquilli fan di Un Posto al Sole c'è un po' di tutto in questa serie cronaca nera problemi sociali e hanno trasmesso al momento oltre 5.000 puntate è un'eternità pensa che noi invece questa settimana festeggiamo le 90 di questa serie domani domani sì infatti oggi è l'89 puntata per quanto riguarda questa serie poi se andassimo a sommare tutte quelle fatte in precedenza quindi con gli ospiti in studio arriviamo pure noi al 5.000 no una cosa di meno come si dice a Pari almeno agli 800 puntate vado con si ho 800 con lo sconto vado con i messaggi vai ascoltiamo buongiorno a tutti Pietro D'Avitetto di serie tv longevissime io ricordo i team poi i MacGyver Super Vicky Magnum P.I. e invece quella che resiste tuttora a distanza di 35 anni è Beautiful eh vabbè non parliamo che va quasi non dei contemporanei a con voi su Beautiful colgo l'occasione per salutare mio zio Pino New Look ehi come no Pino New Look quelle che ho amato infinitamente sono state College Trasso di Ferro e i ragazzi della terza C eh sì però quelle non sono state eh sì infatti quelle mo sì sì longevissime Renato mi fai mi fai le facce dei protagonisti che si giravano di scatto nella prima sigla eh sì però allora fammi la faccia di Ridge che scopre un che Brooke ha avuto un figlio con suo padre vai fai adesso ci sei fammi più vai vabbè com'è allora Brooke ha avuto un figlio con tuo padre Brooke ha avuto un figlio anche con tuo fratello Brooke ha avuto un figlio con il marito della figlia ok manca la scritta sotto e allora i bizzi penso di sì si svolge tutto all'interno delle famiglie che loro è l'Hourstone che loro è l'Hourstone Brooke e Ridge si sono sposati almeno quello che si sposa con la ziana il nipote che si sposa con la cugina la cugina che si sposa con il fratello prete il prete che che si dimette da si dimette e si sposa con la sua ma città il signore il dio e dice io mi dimetto va bene va bene è da più di 30 anni signori miei che entra nelle case delle famiglie di tutto il mondo personaggi che si amano si odiano muoiono e risorgono muoiono e risorgono Taylor la ex moglie di Ridge è morta e risolta almeno tre volte e ci sono 8000 puntate e ha avuto ben 31 Emmy Awards è tra le 5 serie tv più longeve di sempre e penso che al momento continueranno Silvia pensavo a proposito di premi ti ricordi quando c'era il famoso Telegatto ah si in Italia era il nostro premio poi alla fine per tutte le varie bella cosa a ritirare il premio premiato da Pavarotti se non vado errato c'era Mila Carlucci come la chiamava mia nonna buonanima Mila che era femmina anziché Mila Mila Carlucci perché Mili erano tante un po' come quando a te dicono Ciardi perché siete tanti in famiglia è uguale la stessa cosa telefonata pronto chi è? buongiorno pronto? ai 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 un giorno ti innamorerai ai 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 Michele 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 ciao ragazzi ciao come sta? Medica in famiglia bravo è vero quella è durata con chi? chi c'era? con Lino Bampi e poi c'era Lele c'era Giulio Scarpati c'era Cettina Cettina Lunetta Savino c'era Claudia Pandolfi che non la dimenticherò mai bella Claudia Pandolfi Lunetta Savino Lunetta Savino che abbiamo visto proprio di sera ho detto Cettina il nome è vero Cettina bravissima e poi ragazzi c'è pure che cos'è? Perensil Perensil ah è vero Don Matteo Don Matteo ok scusate ma mia moglie è una fan a canita di Rai Premium qui se le vede tutte ci sta qui ce le vede ce le strarrivediamo ogni premessa come se il re tu metti in famiglia ma secondo te Michele secondo te ci sarà il seguito di Lolita che è finito ieri sera tu l'hai visto non lo so a me non è piaciuto perché sinceramente di Bari hanno fatto vedere solo delle delle diapositive cioè non per l'accento molto marcato che hanno utilizzato perché lo utilizzano spesso e volentieri quando quando fanno riferimento a noi ma il fatto che non si sia girato non si sia girata a mezza scena a parte quella su pane e pomodoro cioè solo lì perché si vedeva però si vede Bari Vecchia si vede si vedono molte zone di Bari cioè almeno io l'ho vista no no io sinceramente ne ho viste veramente pochissime erano tutte diapositive poi qualche qualche scena insomma forse in qualche in qualche piccola zona però quando fanno film su altre città fanno vedere per esempio c'era una minchere dove c'era il figlio di Tognatti mi pare girata proprio alla Madonnella e facevano vedere non mi ricordo il nome è sempre sulla Rai non so se l'avete lì vabbè ma quelle sono scelte sono scelte registiche poi alla fine capito sì anche di sì no no ma non lo sto giudicando no 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 certo io sto parlando in maniera del tutto speriamo Michele che magari con una prossima edizione di questa Lolita Lobosco si giri un po' di più nelle varie bellezze che la nostra città ha ancora da offrire come location come tra l'altro fecero il capitano vi ricordate il capitano Madia sì sì ma devono vedere solo l'uscita dalla caterma dei Carabinieri e basta va bene allora che sia di buon auspicio grazie Michele ok grazie a voi ciao un abbraccio Michele ciao anche da parte mia ciao grazie allora Renato qui continuano ad arrivare un sacco di messaggi che dici vai spingi i bottoni sentiamo io cito Law and Order bravo Special Victims Unit ideata da Dick Wolf che è arrivata alla ventiduesima stagione che ha un po' anche una funzione davvero sociale soprattutto negli Stati Uniti per quanto concerne appunto le vittime di stupro ciao da Marco da Japish ora ne parliamo c'è un altro messaggio di Marco e poi la serie della BBC Doctor Who è vero è vero è vero allora parliamo un attimo di Law and Order dal 1990 al 2010 infatti quelle che stanno mandando adesso sono replica no 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 è lo spin off Law and Order Special Victims Unit quella di cui parlava Marco che è quella che noi seguiamo molto spesso no ed è quella con Mariska Argitai la figlia di un'attrice famosissima Jane Mansfield bellissima e c'era anche come suo partner quell'attore molto bravo italo-americano Tom no aspetta Christopher Meloni Christopher Meloni che probabilmente a sua volta avrà uno spin off sempre da Law and Order si si è aperto un negozio di spinotti quindi stiamo parlando di Law and Order che noi vediamo ogni sera praticamente perché diciamo che vedendo questa cosa concilia il sonno a Silvia non è vero abbiamo una telefonata pronto chi è pronto si ciao chi sei Riccardo da Bari ciao Riccardo ecco vorrei una cosa senti lecce dimmi vai passare a papà Gianni le dici solo che è venuto a mancare il mio cognato il malestro Salvino ah ho capito mi dispiace Salvino come no ma quando è successo oggi no no venuto a mancare 10 giorni fa 10 giorni fa va bene io ho ripromesso di chiamarle grazie grazie e gli mando i saluti Salvino si che ricordiamo ho conosciuto anche la tua madre grazie grazie mille va bene riferiremo grazie ciao ciao grazie allora torniamo sul tema si dimmi Renato no va bene rimanente vado con i messaggi sono Matteo da Bari io ricordo con molta nostalgia Hazard Hazard le vicende di Boe Luke Jesse Duke Rosco si la bellissima Desi erano era un bellissimo telefilm io mi ricordo di 7 stagioni addirittura l'ultima stagione erano degli episodi molto pazzeschi una buona giornata erano molto pazzeschi va bene d'accordo lo teremo presente vado con gli altri messaggi ciao un saluto a Silvia e Renato ciao Raffaele ciao Raffaele tra le serie più longeve io voglio mai dimenticare e ricordarvi la mitica Star Trek eh Star Trek c'è per le serie italiane tra le più carine più belle che fa la parodia le serie Boris è vero forse sta tornando Boris si forse forse si stanno preparando con Francesco Pannofino e tanti altri bravissimi attore nonché doppiatore eccellente bellissima Boris davvero una bella serie molto divertente abbiamo una telefonata pronto? pronto pronto ciao chi sei? sono Rino da Barletta ciao Rino buongiorno allora dici tu vorrei ricordare Miami Vice Miami Vice Miami Vice come no vai dimmi pronto? e poi ancora c'era una volta al West c'era una volta al West che anni e anni fa bravo si 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 vabbè sono tutte comunque serie televisive che hanno fatto storie insomma grazie per averci chiamato e buona giornata buona zona rossa ciao allora Renato prima il nostro amico Marco Dajapigi ha menzionato anche Doctor Who si 709 episodi una programmazione andata avanti per 53 anni pensate un po' lo show prosegue dal 1963 è una serie tv di fantascienza prodotta dalla BBC 36 stagioni ovviamente questo dottore cambia nel tempo quindi l'attore che lo interpreta si varia il tempo e lo spazio è fantascientifica quindi si può giocare parecchio io ti faccio ascoltare un po' di messaggi perché qui stiamo belli pieni vai ascoltiamo l'argomento piace si si ma buongiorno oh chicca allora niente di serie televisive mi vengono in mente la casa è nella prateria beautiful il segreto è una vita e poi che è quella delle serie che segue mia madre poi l'italiana vabbè un po' sta al sole che io e mia madre insieme tutte le serie non ci potrebbero nemmeno una puntata anche Antonia la casa lo vede provaccia ancora prof un medico in famiglia mo e Don Matteo e Don Matteo va bene noi lo seguiamo sempre quando fanno le repliche va bene ciao ragazzi buon pranzo buon inizio di settimana a tutti grazie buona zona rossa pure a te ciao allora vado altri messaggi buongiorno a tutti e buon lunedì a voi la mia fiction preferita diciamo una delle prime vi vogliamo ricordare Dallas con il mitico Jay Ar Bob Jay e poi non lo so come si chiama Swellen Assai ah e poi volevo dire anche un'altra cosa che a Bari avete la famosa fiction della Pantera Nera che non è stata ancora catturata guarda mo si trova in zona Giovinazzo Giovinazzo Bitonto però pare siano due addirittura nel frattempo si è cronata hanno pubblicato anche proprio ieri l'ho visto un video mentre questa questa Pantera prendi un cane no no prendi un cane perché giustamente va mangiare ah è un fake mi dice Paolo che è un fake ma infatti è una la Pantera scusa ma è un fake cosa il video o il fatto che ne siano due ah il cane ah ok no perché ho visto questa scena che mi ha lasciato un po' scioccato va bene Renato hai una telefonata pronto chi è? pronto buongiorno sono Maria Teresa ciao Maria Teresa buongiorno senti io ho una serie che seguo giornalmente quella del paradiso delle signore nel poverizio quella che segue tuo padre eh quella è quella che segue no guarda c'ho mio padre che è una cruce nel senso che ogni giorno pure lui senti e poi io sono appassionata per essere quello che non seguiva niente ma segui questa questa fiction è molto bello però perché hanno iniziato negli anni 60 è carina tutte serie e poi io sono anche un'appassionata di Dottor House Grey's Anatomy tutte quelle quelle tv relative agli ospedali alle cliniche diciamo da Cianetti Rossi e Armede Ciacapolinia va bene va bene grazie grazie ciao ragazzi ciao 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 allora Grey's Anatomy come non parlare di Grey's Anatomy che va avanti da 17 stagioni e che ha una diciamo penna dietro l'autrice di questo personaggio di questa serie l'executive producer che è Shonda Rhimes che ha addirittura lo Shondaland il magico mondo di Shonda che ha prodotto poi una serie infinita che usano di solito quando fanno delle operazioni tra cui la recente Bridgerton che sta facendo impazzire un po' tutti grazie a questa presenza dell'avvenente duca Shonda si è divertita ad avanzare quasi tutti i protagonisti di questa serie Shonda che è anche un termine barese devo dire va Shonda ah non sapevo sì allora vai di Grey's Anatomy possiamo dire che alla poverina la protagonista muoiono un po' tutti muore la sorella muore il marito ci sta Derek Shepard eccetera subisce un disastro aereo viene incendiato all'ospedale lei si trova in una situazione con in mano una bomba che sta per esplodere muoiono praticamente sono morti quasi tutti quelli della prima delle prime stagioni è rimasta solo lei ma adesso ha il covid è stanche ricoverata e ha rivisto il marito nell'aldilà quindi diciamo che ha avuto tutte queste malattie è inquietante ragazzi io ho smesso parecchio tempo fa di vederla perché hanno ucciso Derek per me un po' insomma e va bene ognuno c'ha la situazione è tra le prime dieci serie tv più lunghe e belle di sempre ha 350 puntate e 15 stagioni già alle spalle una sedicesima edita e una diciassettesima in lavorazione che sta anche andando in onda quindi che te lo dico a fare è proprio tanta roba andiamo con i messaggi vai vai ascoltiamo Beverly Hills 9210 ah puoi la tromba fa comunque se ci pensi Beverly Hills 9210 sono andati a resumarlo perché era finito tanto tempo fa si ebbe uno sfortunato seguito una decina di anni fa con questa serie che si chiamava 9210 con nipoti figli dei protagonisti insomma sempre nello stesso liceo però che cos'è la pantera senti la pantera è un gattus non è una pantera pre nero è un gattudo diciamo allora a proposito di animali Silvia scusami se ti interrompo è perché Lessi fesso è Lessi con 588 episodi il cane più famoso della tv facciamo ascoltare anche la sigla la sigla di Lessi Tiziano che bellissimo il cane più famoso della tv è stato uno dei più grandi successi nella storia delle serie tv le 19 stagioni della serie storica sono andate in onda dal 1954 al 1973 la sigla più recente per poi proseguire dal dunque dal 1989 con il remake le nuove avventure di Lessi e questa è la sigla però prima ancora di Lessi te lo ricordi vabbè tu no perché di piccolino forse non c'eri però Titti sia Titti che Fedes se lo ricorderanno Rintintin tu hai ricordi Titti l'ho visto pure io ah c'eri non c'ero però l'ho visto le repliche Rintintin Lessi torna a casa Lessico eh Paolo c'era Rintintin telefonata furia fesso è furia cantata c'era la sigla cantata da Mal è tu che gli hai chiesto a Mal quando l'abbiamo avuto ce l'abbiamo no era furia cavallo del West che mangia un panne test questo chi è Rintintin sì sigla di Rintintin qui è una telefonata bello pronto chi è? pronto? che mangia un panne test ciao chi sei? pronto? sono Rosanna D'Accorato ciao ciao Rosanna allora Rosanna eh una una serie tv più longeva qual è secondo te? Love Boat eh Love Boat e poi Love Boat io ne ho viste tante sinceramente io assai seguivo sentieri sentieri this is the time to remember anche se sentieri I knew love I knew love I knew love brava in lingue brava Billy Joel Desonest ma non ti hai ma non ti hai ma non pi supercar supercar e poi Steve Kudad come si chiama ehm poi South Park vabbè ehm dicevo che South Park Rangers ehm I team quello dove stava quello là che capito soltanto e poi il resto ehm I team quello che aveva i capelli che è un americano ehm ecco ecco sì sì fuori al cavallo del west che mangia un pane d'est vero che c'è va bene grazie allora Renato sentieri torniamo a sentieri perché le altre menzionate non sono proprio tra le più longeve però sono state importanti io Silvia volevo ballare pure niente dai dai più longeve dai più longeve di di scusa no no questa canzone quando io dico che voglio ballare sapete quella che dovete mettere vai Silvia vai scusimi no prego volevo ballare vai allegre ma non troppo metti un po' di musica leggera nel silenzio assodante per non cadere dentro al buco comunque questa canzone sta spopolando io l'avevo detto l'avevo detto che avrebbe raggiunto le classifiche italiane eccola qua Yoko allora andiamo avanti sentieri stavamo parlando di sentieri i sentieri finalmente l'hanno chiusa e c'è nel 2009 l'hanno chiusa signori perché comunque era partita in radio pensate un po' in che anno spara Renan in radio sentieri negli anni 30 è iniziata veramente per radio poi è passata alla tv parecchi anni dopo perché fu cancellata in radio negli anni 50 eh un po' sì insomma fu promossa in tv dal 1952 pensa un po' pensa a quanto è durato sentieri io mi ricordo anche i nomi di alcuni personaggi sentiamo c'erano gli Spaulding gli Spaulding sì Alan Spaulding e poi c'era il figlio Philip Spaulding che ebbe una relazione con Beth Riordan e il suo migliore amico si chiamava Rick che faceva il medico madonna sentieri sentieri this is the time che poi era diciamo la sigla più più sentita all'epoca ma pur mo' beh te la ricordi insomma non ci vuole molto come riferimento qua siamo sepolti di messaggi ascoltiamo vai mandili e non dimentichiamo i mitici Jefferson e il mitico Tenente Colombo ciao sempre Michele della Madonnella Tenente Colombo alias Enzo Zambetta questo per par condition ovviamente Rai e Mediaset certo giustamente vado avanti siamo pieni pieni di messaggi mi sono mandato un'altra volta il Tenente Colombo è vero sempre ogni day buongiorno Nicola Danui Cattaro ciao ragazzi non avete mi pare ricordato la serie originaria di Charlie's Angels le Charlie's Angels quella con Farah Fawcett certo e quelle Brunetti proprio poi è stata sostituita sono stati seguiti però con altre attrici anche di film arrivederci buona serata ciao grazie grazie ci fu il film quello con Lucy Liu Drew Barrymore Cameron Diaz sì non so se faranno anche un remake della serie tv comunque insomma lo scopriremo solo vivendo Silvia ci scrivono Spaulding che è culo della borsa ah ok qua ci vuole una cosa per salutare anche l'ennesima persona morta l'altro giorno che è Raul Casadei sì ce l'abbiamo Titti era al telefono ah scusami no non l'avevo visto sì io volevo salutare personalmente Raul Casadei che ci ha lasciato proprio due giorni fa con la sua storica canzone che è tu sei la mia simpatia eccolo qua tu sei la mia simpatia simpatia il re del liscio simpatia dobbiamo andare in pubblicità Renato pubblicità il ciardatano il ciardatano eccoci tornati con il ciardatano allora Renato siamo pienissimi di messaggi vocali vai mandili vado mandili alcuni sono riusciti ad ascoltarli altri no quindi date pazienza vai vai buongiorno Silvia buongiorno Renato ciao sono Vito da Giovinazzo ciao Vito una serie tv longeva italiana qual è? come non ricordare Don Matteo ancora tuttora in replica sì sì una serie tv americana i Robinson che a me piacciono tantissimo è durata parecchi anni vi saluto e un abbraccio a tutti ciao ragazzi grazie lo spin up con Lisa Bonet che mi interpretava la figlia Denise ti ricordi quando andava all'università buongiorno a tutti sono Nicla da Carbonara ciao Nicla oltre Law and Order volevo ricordare Criminal Minds CSI Miami Las Vegas New York Paul Case l'ispettore Coliandro Coliandro la prof Camilla Baudino e non mi ricordo più ciao a tutti tu te le sa brava grazie brava in queste tre settimane ci cosa da fare puntale da capa a vedere tutte le serie televisive sono sempre Nicola ciao è come di mi dicare Rex il commissario Rex bellissimo cane pastore tedesco sì nel film polizieschi che ha cambiato tre volte il suo padrone il suo commissario sì sì sono sempre Nicola da Bari eh Nicola c'era anche UFO UFO da serie di tre film su UFO bellissimo va bene grazie posso andare avanti con i messaggi vai 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 buongiorno Silvia buongiorno Renato ciao non so di cosa state parlando perché mi sto vedendo in Facebook visto che sto guidando comunque vi mando un grande abbraccio e un grande saluto grazie grazie a questa terra meravigliosa che oggi fiamge il lutto che sarebbe Raul Casadei eh ah quindi mi stringo il loro cordoglio visto che siamo di casa certo certo io manderei grazie io manderei un altro brano Silvia ciao Renato ora vi sto ascoltando eh quello che invece ricordo io come telefilm è Mork non so come se si chiama così con Rob e William Mork e Mildi sì ciao comunque sono Tania e Cessinati sì abbraccio o Silvia ciao Renato non so se già l'hanno detto però io vorrei ricordare una serie un telefilm che l'ultima puntata è andata ieri in missione ed è Lolita lo Bosco dove ho visto la mia città in tutto lo suo splendore anche se non parlano bene il paese ma che se ne frega fin'è ancora un altro vedetimi mi sono veramente commosso ci fa piacere la mia città si intende ci fa piacere forse per l'accento si era commosso no per le immagini della città è certo è normale che poi non c'è solo Bari lì c'è Monopoli ma quanti messaggi Renato io non lo so abbiamo tanti una caterva di messaggi sento la nostalgia di un passato e poi Silvia ascoltando queste canzoni quindi il liscio il re del liscio che era appunto Raul Casadei a me ricordo a me vengono a me vengono alla mente tantissimi ricordi tipo quando andavo con i miei nonni all'epoca alle feste in casa famosissime che si ballava loro mettevano il disco che c'era chiaramente Raul Casadei Pino di Modugno quindi il liscio ed era bello era bello all'epoca infatti ora che ne sto parlando mi stanno rizzicando i peli almeno a me fa questo effetto bello bello vabbè telefonata andiamo avanti pronto chi è? pronto? pronto? non è pronto? no perché probabilmente siccome stava da prima della pubblicità sono trascorsi anche 8 minuti quindi si sarà addormentato al telefono va bene ci richiami per favore il numero è 080 501 46 68 vado con gli altri messaggi vai vai ciao Renato ti sei dimenticato? che cosa? specialmente in questo periodo la famosa anche i ricchi piangono non era una serie televisiva più attuale in questo periodo ciao da Luca più attuale anche i ricchi piangono ma non pensico proprio anche perché i ricchi sono diventati ancora più ricchi ciao Renato ciao Silvia sono Anna Dabbari non so se avete già menzionato X-Files brava una serie tv che andava in onda su Italia 1 nei mitici anni 90 sì e poi mi viene in mente la casa nella prateria anche anche però X-Files te la ricordi sono stati un sacco di puntate in più l'hanno ripresa recentemente con proprio delle puntate inedite stiamo scontando sì questa sarebbe da campionare quando ci chiamano noi non capiamo quello che ci vogliono dire telefonata Renato pronto? pronto ciao chi sei? sono Carmine da Barletta ciao Carmine buongiorno allora ascoltami stiamo parlando delle cose vecchie ma delle cose nuove il commissario Ciambotto guarda la mavedere il commissario Ciambotto il commissario Ciambotto stiamo parlando di 30 anni fa più o meno quindi diciamo che non è nuova come cosa chiaramente tu stai parlando del polpo giusto? che è stato mandato in onda almeno 30 anni fa eppure quella è stata una serie televisiva perché no perché no seguitissima va bene grazie grazie andiamo avanti ciao ragazzi buongiorno buon inizio settimana Anna Maria dal Brasile Anna Maria mi voglio ricordare una sop opera che l'ha ripetuta l'ha rifatta e ancora rifatta per tanti anni era quando si ama andava sempre in onda alle ore 13 su Rai 1 e l'altra lo sta ripetendo adesso tuttora Eva Luna su Tele 2 Eva Luna non l'ho mai vista era finita hanno spezzato per un po' di tempo e la sta ancora ripetendo l'hanno spezzata grazie a voi buongiorno e buona giornata saluti da noi dal Brasile ciao ciao Paestro Piccao Paestro Piccao dai tutti a ballare stiamo tutti in casa e voi vogliamo stare a fare le feste in casa dai fate i primi insieme così a ballare allora chiedo a chi ci sta mandando un po' di messaggi scritti ricordatevi i vocali perché se no non li possiamo mandare perché continuano a mandare e va bene sì io li leggo ma mi dispiace va bene vado avanti ci sono un sacco di messaggi ascoltiamo 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 ciao di nuovo Raffaele non so se vale le serie animate i Simpson bravissimo i Simpson è durato tantissimo dal 1989 ed è stata ancora rinnovata abbiamo una telefonata? intelligentissimi Matt Groening quest'ironia proprio English la sigla dei Simpson memorabile Renato telefonata pronto chi è? sì sì pronto? pronto ciao chi sei? ciao sono Dino da pari Dino dici tutto Dino me ne vendono in mente due non so se sono state già dente e dile tu prova c'era una spazio 1999 bravo bravo spazio c'erano anche le figurine le figurine eh e poi l'altro è eh qual è? ai confini della realtà ai confini della realtà è vero bravo che è successo Renato? niente volevo cambiare un po' volevo venire avanti vediamo se si può così facciamo una cosa un po' diversa ok dai mo lo faccio così allora chiamate ancora in trasmissione smettila mi no c'è facciamo qua una cosa diversa allora va bene andiamo con altri messaggi vocali Renato ascoltiamo vai ce ne ho tantissimi aspetta ne seleziono uno a casa vai 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 bravo c'è il remake il remake c'è è vero però la canta benissimo ma è il pupo quello che ci sta mandando mi sa proprio di sì mi sa di sì in sentieri c'era anche Josh interpretato dal figlio di Paul Newman e poi ricordo anche squadra speciale Cobra 11 serie tedesca che è durata tantissimo credo duri tuttora allora Josh era sposato con Riva ti ricordi a un certo punto la fanno morire poi la fanno tornare clonata come si usa a fare di solito è vero mi ricordo questo passaggio e quello si chiama Josh Newman ma non credo che fosse il figlio Marco fai tu la ricerca al posto nostro e diccelo perché qua stiamo un attimo pieni pieni di messaggi sì allora sì vado ciao Sibia ciao Renato ciao chi sei sono Raffaella da balletta io volevo dirvi a fare il tv che si chiama Rex 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 ah eh sì l'abbiamo già detto prima l'abbiamo già citato sei rilassato così è comoda questa posizione insomma mi sta venendo un maldino aspetta 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 e tu continua io muovo e siete da facendo i fatti suoi io non lo so se è normale questa cosa buongiorno Silvia non posso neanche fare ascoltare i messaggi perché si è tolto la cuffia eccoci qua ok ti sei seduto ah così la vuoi fare eh sì dai è bruttissima queste inquadrature facciamo una variante tanto buono si usa ah dai buongiorno Silvia buongiorno Renato io da domani vorrei stare qua eh io voglio ricordare due serie tv alle quali sono molto affezionato qual è? un'americana che è sicuramente Breaking Bad bravo che mi ha aperto un mondo bravo e poi? una serie tv incredibile è vero invece per quanto riguarda una fiction italiana qual è? ho molto a cuore raccontami con protagoniste anche due nostre concittadine Lunetta Savino e la compianta bravo Marolina Tefano ti abbraccio bravo raccontami è vero me lo ricordo grazie Federico che ci sei dato anche un'altra prospettiva di Renato quindi chiudi le gambe Renato che non siediti composto per favore grazie sto bene così grazie a cavalla le gambe sì facciamo come quelli serie fai lo stile fai lo stile alla Piero Angela sì all'Alberto Angela adesso puoi divulgare fortissimo divulghiamo moltissimo abbiamo altri messaggi Silvia? vai ascoltiamoli buongiorno Renato buongiorno Silvia sono Mariangela come serie televisiva ricordo amico mio che c'era quel bambino che si chiamava Spillo Spillo ciao ragazzi qua voglio aprire una parentesi era il periodo in cui andava fortissimo Massimo D'Apporto e lo vedevamo sia in un prete tra noi sia in amico mio dove faceva questo medico pediatra che si batteva sempre per gli altri insomma una c'era proprio questa figura ormai angelicata di Massimo D'Apporto in tutte le salse ragazzi dobbiamo andare in sì questa era la sigla di amico mio pubblicità 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 ci vediamo fra poco eccoci tornati al Ciardatano oggi voglio stare così voglio vivere così sedù sul tavolo no questi facciamo vedere il tavolo che abbiamo un tavolo insiste qua mi trasmissimo scusate ma fammi capire ma domani ti troviamo dove c'è quella il fosso per i cavi no no voglio stare qua così stai benissimo hai visto vuoi un cuscino e c'è Lily Gruber no sembri uno di una pubblicità di materassi materassi vabbè non si fa pubblicità questo devo dire che come materasso va benissimo bel test le tavole in legno duro bello duro va bene allora vi ricordo il numero telefonico al quale potete chiamare non lo ricordare perché stiamo pieni di messaggi un attimo da sa ma è incredibile proprio tanti 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 quindi che faccio sfrangio sfrangio sfrangiamo vai ragazzi la famiglia Adams Manuela e Topazio che hanno turbato la mia adolescenza continuate così siete simpaticissimi grazie Giacome e Mariella grazie Giacome e Mariella insieme vado avanti buongiorno Renato e Silvia non so se è stato già detto Perry Mason bravo un abbraccio ciao è vero è stata una serie veramente longeva ciao Renato sono Giovanni Giovanni una serie italiana longeva è stata anche il commissario Montalbano che ha concluso il mio discorso è vero è vero è vero è vero poi si è aperta la polemica perché Montalbano ha lasciato Livia la sua compagna di una vita per telefono guarda tutti a parlare di questo si sono praticamente spostati dalla Pantera al Covid alla storia di Montalbano all'accento di Lolita Lobosco a noi che non parliamo così tantissime altre cose tanta roba tanta roba sui social buon pomeriggio sono Ghetano Dabbari ciao buon pomeriggio a Renato e a Silvia ciao niente voglio ricordare la famosa serie televisiva gli E-Team una buona un buon pomeriggio l'abbiamo già ricordato mi dispiace eh sì ma questi sono arrivati tanto tempo fa poi mi scrivono perché non hai mandato il mio messaggio sempre io Luigi D'Accorato vi ricordate la serie Ciuffettino che se lo ricordo con un bravo ragazzo c'è Ciuffettino il ciuffetto diventava debole Ciuffettino che cosa c'era sempre io Luigi D'Accorato Ciuffettino guardate Magnum P.I fantastico con Fidelity Film insomma sono cresciuto con l'epoca bello Ciuffettino ma c'è Ciuffettino ma c'è una sigla ha detto Federico che Ciuffettino se lo ricorda aveva 8-9 anni quando lo mandavano Federico se ti ricordi altro Ciuffettino ha detto sia da Federico che da Titti smettila tu che non è che stai messo meglio c'è la fronte è spaziosissima però diciamo che ho questo Ciuffettino vedi che mi ecco la sigla di Ciuffettino trovata da Tiziano ma è triste come musica mi aspettavo che c'è la canzone di Ciuffettino ma c'è l'allegria dei bambini poi l'aspettavo di vedere di Ciuffettino vabbè ma vabbè fa schiando sta canzone metti una cosa più allegra Titti no devi mettere il pezzo mio a posto Titti devi mettere il brano mio ballabile ah quello quello qui continua ad arrivare roba vabbè io vado a caso ragazzi vabbè il modo in cui ti stai sedendo così comodo e sobrio mi ricorda tanto Belen ma che carreno chi è? Alessandra hai ragione Alessandra fa molto Belen no che poi ha scritto ha fatto quella cosa dicendo cioè lei pubblica ogni due minuti foto dove c'è lei chiaramente che dice che sta incinta abbiamo saputo tutti quanti che sta incinta Belen abbiamo visto anche l'ecografia l'ecografia tutta abbiamo visto un altro po' anche il momento del concepimento le tette messe in mostra sabato scorso da Maria smettila ognuno fa come gli pare per la libertà di espressione vado con i messaggi di musica leggera hai visto quindi torna al posto tuo Sibia ovviamente avevi ragione tu ho detto una castroneria ecco Robert non è il figlio di Paul Newman ma chizzo il chiacchier che mi ha amato quando ero piccinino capita capita tranquillamente e per quanti anni ci ho creduto assai proprio hai visto Marco alla fine era il cognome del personaggio però te la sembrava tua madre che ha questa mente creativa però Sibia ce ne sta un'altra che è Gis Gis Unità Anticrimine Gis sta scritto qua NCIS N-C-I-S N-C-I-S Gis in dialetto si legge Gis hai una telefonata pronto chi è? pronto? ciao chi sei? buongiorno sono Teresa da Bari ciao Teresa dici tutto buongiorno senta volevo volevo salutare se è possibile volevo salutare i miei genitori che si trovano a Palese va bene come si chiamano? Anna e Antonio Anna e Antonio e poi vorrei salutare anche i miei suocidi che si trovano a Torra Mare Teresa e Giuseppe e poi e cugini niente? ma ci ti mancano male tutti pure va bene grazie grazie non vuoi parlare di noi del tema della puntata? io lo vedo io lo vedo io vi vedo tutti i giorni ho capito mi piace perché è una bellissima una bellissima trasmissione grazie grazie mille che mangi oggi? oggi sto mangiando pasta e piselli pasta e piselli ma con i spaghetti spezzati oppure con i paternoni? sì no i tubettini i tubettini va bene grazie grazie ciao ciao grazie ciao stiamo dicendo Silvia in GIS unità anticrimine la serie tv polizia è in GIS no è in GIS guarda scusa Fedes la vuoi finire? in GIS sta scritto in GIS Federico non dargli retta per favore NCIS vabbè con 378 puntate in 16 stagioni in GIS unità anticrimine e la sicuramente tra le io non riesco a parlare con quello sdraiato perché? sto comodo così bugi mi sta facendo male la camera la tua mamma non allora stavo dicendo trattandosi di un programma ancora in produzione la serie potrebbe davvero battere ogni record mondiale potete smetterla di chiamare sul numero su cui dovreste fare i messaggi vocali no ma tu puoi dirlo in musica in prosa puoi fare la poesia non ce ne frega da nessuno per questo motivo mi sono messo così un altro un altro Silvia un'altra era Bonanza te la ricordi? Bonanza aspetta che c'è Jesse Cis eh no sposa la telecamera sposa la telecamera voglio vedere Tiziano che si incazca la Cristiana chi è Tiziano? si può sentire? si sa chi è non ho sbagliato perché dovete sapere che Tiziano giustamente fa le nostre veci noi che stiamo qui davanti alla tv lui prende queste telefonate per capire chi è se può mandarlo in onda se non lo può mandare in onda Jesse Cis Tiziano si può sapere chi era? no non ho capito chi era cioè che cosa ha detto? ha detto pronto e poi e basta ah bene no pensavo peggio sinceramente perché sappiamo che ci chiama il ciordatano sta andando un po' si un po' per lo fa su va bene stavo dicendo ma a partire da te devo dire che hai deciso di fare ma io mi sono messo qui apposta domani viene in pigiama no domani mi appendo mi appendo quindi facciamo tutta la trasmissione di un'ora con me ti devi far insegnare un po' di yoga da mia madre domani lo fai a testa in giù con il sangue con il cervello va bene stavo dicendo Silvia bonanza bonanza grazie tu sei la mia bravo Titti a posto tu sei la mia bravo bravo per il fatto che sono dimagrita anch'io ma insomma quindi siamo tutti dimagriti abbiamo una telefonata pronto chi è? ciao Renato ciao chi sei? allora ti saluto saluto Silvia sono Anna Tabaschi Anna ciao Anna buongiorno va bene no ti abitonto ah va bene si cambia abitonto sbagliato ascoltami dimmi prima di tutto ti ringrazio di aver ricordato Raul Casadei certo dovevamo farlo eh poi volevo dire che è successo oggi non riesce a fare l'uovo eh sì perché domani sono 90 puntate e ho deciso di come sono stangata stare dietro là poi come potete vedere ascoltami ascoltami però in qualsiasi ascoltami in qualsiasi posizione ti metti sei sempre bello grazie madonna ma dai complimenti a ridere senti no stavo dicendo Silvia non essere gelosa segognati assolutamente assolutamente allora io ascolta vorrei ricordare la serie che ho sempre visto ma do come sei bello fattele chiusa signora eh Renato dobbiamo chiudere smettila cioè Serena Russo che si affaccia sconvolta si si affaccia da prima ha fatto eccoci la signora in giallo la signora in giallo in questo caso il signore in blu vabbè ho capito continuiamo domani con l'argomento sì infatti continuiamo domani ciao grazie Renato dobbiamo chiudere abbiamo finito? sì domani lo riprendiamo se vuoi va bene ciao a tutti ci vediamo domani mi raccomando cercate di prendere questa pantera benedetta ciao questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore grazie